Falvaterra è un comune in provincia di Frosinone, ha circa 600 abitanti. Grazie a Cassa Depositi e Prestiti abbiamo ottenuto importanti finanziamenti, volte alla realizzazione di progetti sostenibili per il nostro patrimonio turistico e culturale, come riqualificazione delle grotte, il miglioramento dello spello turismo. Questo ha permesso di avere un progetto integrale in cui c'è sia l'accoglienza ci sia praticamente la possibilità di visitare le grotte che sono di uno spettacolo unico. Abbiamo realizzato il quarto e quinto tronco cimiteriale, aree polifunzionali e non per ultimo l'adeguamento sismico della sede comunale. Il parco della rimembranza è uno dei nostri figli all'occhiello. Grazie a Cassa Depositi e Prestiti è stato possibile rivestinarlo. Cassa Depositi e Prestiti è importante per tutto il territorio italiano perché promuove le nostre bellezze, sostiene il nostro territorio e valorizza il nostro patrimonio culturale. Un'importante risorsa per far sì che il nostro Paese possa crescere.